velocissimo intanto scusate il ritardo sono arrivato un po ritardo vero e non dite bugie sì sì è che no sì bravo diciamo la verità scusate il ritardo e scusate se scappiamo quasi subito però abbiamo visto la scuola e ho chiesto ai vostri compagni di scuola più piccoli qual è la cosa più bella della scuola uno mi ha detto il corridoio uno mi ha detto la classe sua e quello più sveglio di tutti ma l'intervallo al che magari il progettista non è felicissimo che sia l'intervallo ma rende l'idea volevo dire rapidissimamente alcune cose ricevo un email con scritto perché non vieni come è scritto email e poi mi è arrivato anche l'sms gribaudo in cosi sono fatti vivi tramite vari meccanismi informatici per dire ma come all'inizio dell'anno non è che andate sempre nelle grandi città perché ha ragione il sindaco hanno ragione i sindaci a dire che i sindaci sono il front office però i sindaci dei comuni più più grandi io avevo un perioduccio anch'io quando ho fatto il sindaco ma avevo il comune grande con tutte le strutture i tecnici funzionari invece i sindaci dei comuni più piccoli sono in prima fila a tirare a tirare avanti la baracca e allora il lavoro che avete svolto qui a bagnolo è straordinario ho detto sapete che c'è anziché farmi un giro nelle grandi città inaugurare scuole io vado in alcune realtà italiane che sono realtà dove sono state fatte cose belle utili e importanti questa è l'unica zona diciamo della provincia che ha qualche qualche elemento di criticità in più potenziale sulle questioni sismiche per cui avete fatto la scuola più all'avanguardia e vado a dire grazie vado a dire grazie del lavoro che è stato svolto giustamente il sindaco mi ha detto grazie sì però io c'ho da avere altri due milioni e mezzo per il secondo lotto la palestra e secondo ora vediamo se ci mettiamo dentro anche la piscina che sono cose importanti perché bisogna che i nostri bambini abbiano ragazzi questi ma insomma la palestra dove poter fare sport perché non è un divertimento è anche un divertimento ma è un modo per crescere un modo lo sa il preside lo sanno gli insegnanti per essere educati al anche paradossalmente anche attraverso lo sport alla cittadinanza quindi sono questioni vere e da questo punto di vista prendo l'impegno che ci lavoriamo da subito però voglio anche dire tre cose rapidissime e poi vi lasciamo subito non vi non vi disturbiamo oltre uno qui è venuta la protezione civile quando era a giugno quindi il momento dove non c'era tutto quello che abbiamo visto a dire che questa è una scuola bella fatta bene importante io vorrei che tutti insieme ragazzi mandassimo oggi un pensiero ai vostri li chiamo colleghi come vostri amici anche se non li conoscete perché so che sono amici anche se non li conoscete che sono i bambini e i ragazzi che ieri sono tornati in classe ad amatrice perché nel giro di 15 giorni di 20 giorni grazie all'aiuto di tutta l'italia pensate che bello i moduli ho chiamato il presidente della provincia di trento gli ho fatto scusa tutte le volte che ci raccontate che voi siete più bravi di tutti sul legno bene mandami trovami un po di moduli il giorno dopo il terremoto trovami ugo un po di moduli per la scuola di amatrice per riaprirla il 13 7 il 12 settembre il 13 e lui ha trovati ovviamente ad amatrice c'è ancora moltissimo da fare accumuli ad arcuata a tutti in tutti questi luoghi siamo appena all'inizio sarà un percorso dove dovremo dare il meglio però che bella l'italia quando anziché mettersi a fare le polemiche come ci ha insegnato la protezione civile durante quella vicenda insieme riparte allora il primo pensiero lo mandiamo ai nostri amici di amatrice e gli diciamo che siamo felici che siano tornati in classe anche voi ovviamente siete tornati in classe siete felici di farlo c'è un ulteriore elemento da da ragionare insieme l'ha detto il sindaco noi lo diciamo con chiarezza tutto ciò che serve all'edilizia scolastica non può essere bloccato dal patto di stabilità lo abbiamo fatto mettendoci dei soldi noi semplicemente perché quando siamo andati al governo venivamo dall'esperienza dei comuni con graziano del rio che era sottosegretario dio presidente del consiglio la prima cosa che abbiamo fatto è stata dire chiediamo ai colleghi sindaci cosa serve per star fuori dal patto vi è arrivata la lettera a tanti di voi adesso lo dico a chi è qui e a chi ci segue da fuori noi siamo pronti a fare ogni tipo di investimento sull'edilizia scolastica perché parole del sindaco che sottoscrivo tutto ciò che serve alla stabilità dei nostri figli delle aule dei nostri figli è più importante delle stabilità delle infrastrutture tecnocratiche e finanziarie da questo punto di vista su questo non si scherza e infine che ho chiacchierato troppo altre due cose uno vi voglio raccontare dove vado oggi a cuneo sentite oggi vado alla ferrero visto ad un'alba perché poi la provincia di cuneo è meravigliosa ma ci sono visto più divisioni interne che tra firenze e pisa che non era facile poi quindi poi dopo alba dopo la ferrero vado in un'altra scuola mondo vi poi vado in un luogo di allevatori alla granda che ha fatto una cosa meravigliosa con la proprio mi piace da morire la carne cruda ma non è che vado per farmi mangiare ma perché questa provincia pensate è la provincia non è la provincia più grande d'italia una provincia piccolina però è la provincia numero uno per export di prodotti agroalimentari cioè quello che si fa qui tra il vino la carne i prodotti buoni in cioccolato fa il record solo verona ci si avvicina a cuneo poi modena milano tutte vengono dopo salerno tutte dopo vengono poi vado a vedere un'altra azienda di cioccolato che si chiama venchi poi vado a vedere la merlo che è una delle più grandi aziende e poi vado a fare un'iniziativa politica e dice ma perché sei sempre qui perché dopo tanti chiacchiere di politica romana prende una bella boccata d'aria fresca in in una terra ricca di valori come quella di cuneo mi valeva la pena però ho da chiedere una cosa a voi e finisco con voi o questa scuola va tenuta bene voi ci starete poco solo un anno siete in quinta voi quindi però se facciamo la seconda parte in un anno è che sei ma andrà che in un anno rifarmi anche la sezione vediamo come fare però voi dovete siccome siete più grandi posso chiedervi perché io sono convinto che il sindaco sia bravissimo che preside siano bravissimi maestre siano bravissimi tutti bravissimi anzi fatemi dire grazie alle maestre e maestri per il lavoro che fanno mi sono fatto una foto di un pensiero bello che avete che c'è in una classe mi sono fatto una foto dopo la metto su instagram però noi sono bravissimi tutti però voi siete cittadini come le maestre come il preside come il sindaco come presidente consiglio quindi questo bene è di tutti non è del sindaco delle maestre quindi mi garantite che lo teniamo bene no 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 non ho sentito mi garantite che lo teniamo bene ecco già meglio allora io la fido a voi questa scuola e invece al sindaco dico andiamo avanti quello che si spende per le scuole purché sia speso bene con qualità e con certezza dei tempi come a bagnolo avete dimostrato sono soldi investiti sul nostro futuro e sul nostro futuro non si scherza grazie a tutti viva bagnolo e viva l'italia allora grazie matteo allora noi a